Il programma per la cerimonia di premiazione del primo concorso internazionale di poesia e letteratura Città di Borgetto, prevista per il prossimo mese di novembre. In quell'occasione, oltre a premiare gli autori delle opere poetiche e letterarie, verrà consegnato un riconoscimento speciale ad una persona che si è distinta nella società per meriti umani e professionali. Si tratta di una medaglia in bronzo che arriva dal Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Intanto il bando per partecipare al concorso organizzato in collaborazione con l'Associazione La Biglia Verde scadrà il prossimo 30 settembre e sono già arrivati diversi componimenti anche dall'estero. Come amministrazione comunale abbiamo chiesto il patrocinio morale al Presidente della Repubblica, il quale ieri ci ha risposto mandando anche una medaglia di bronzo che noi consegneremo ad una persona che si è distinta dal punto di vista umano e professionale all'interno di questa manifestazione che si svolgerà a novembre. Sono centinaia gli iscritti per quanto riguarda questo premio internazionale, quindi noi come comunità li accoglieremo con tanto affetto, dimostreremo che la nostra comunità è una comunità viva, piena di gente fantastica. Sono orgoglioso che l'amministrazione tutta ha fatto sì che questo premio letterale internazionale andasse avanti. Si chiuderà sicuramente, si chiude lunedì. Abbiamo già 150 adesioni a tutto, diciamo anche dal Canada, alla Germania, quindi è un premio internazionale che sta riscontrando notevole successo. Il Presidente ha risposto e ha mandato questa medaglia e quindi siamo orgogliosi anche di questo. Diciamo che Borgetto si fa sentire e la cultura a Borgetto comincia ad avere risonanza, una risonanza giusta. Nell'ambito del primo concorso internazionale di poesia e letteratura a città di Borgetto sono state coinvolte anche le scuole del paese. Ha dimostrazione che la nostra scuola è una scuola che tiene soprattutto alla formazione culturale. Il principio è nobile, è nobile perché per quanto mi riguarda personalmente, ma penso che sia obiettivamente condiviso il mio pensiero, la cultura rappresenta la libertà e la libertà rappresenta la democrazia. Per cui inculcare sin da piccoli questi principi morali così nobili in un periodo di crisi veramente profonda sotto tutti i punti di vista e non mi riferisco soltanto alla crisi economica che il nostro paese sta attraversando, ma anche alla crisi veramente culturale e alla pochezza sotto tanti punti di vista a livello sociale che dobbiamo affrontare. Diciamo che questo colpo di reni, ecco, da parte di gente che ha il pensiero nobile nei confronti di chi vuole imparare, nel pensiero nobile di chi vuole dimostrare che la cultura è libertà, che benvengano queste cose.